Oh, caglio! È un papito più di tre mini. Non c'è Antonio. Siete pronti? Vai ancora, ancora più forte. E i piedi. Non vi fate superare. Siamo fermati. Allora, il treno. Vediamo, può ripartire il treno. Mettiamo qui, vieni. E da qua, il treno. Andiamo. Vai, com'è qua? Giù, giù, giù. Giù, 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 giù. Ancora, ancora. Adesso, i colomboli. Com'è qua il treno? Sei in calombi. Come è qua? Allora, l'ultima volta, ma con te, come fai? Il treno? Giù, giù. Va bene, possiamo andare. Andiamo alle scale. Beh, ragazzi. E il tavolino non c'è. Non c'è. Forza, a girare attorno. No, forza, a libertà. Bambini, la gioia della scuola dopo la novena di Natale, nella chiesa di Sant'Antonio. Questa è monopoli, una monopoli vera, una monopoli che ha voglia di essere inutile e di prepararsi a una festa. Se vi è piaciuto cliccate mi piace e questo è il canale Eustonews. Eustonews.